Nasco nella poesia come labirintista, il labirintismo è un movimento culturale fortemente introspettivo. L'abirintismo è una parola intomo di reluogo, labris è l'ascia bipenne del palazzo di Chinosso, chiaramente sintetizziamo, però l'ascia bipenne perché è importante per il labirinto, perché di fatto sono due strade da prendere, adesso come iconografia è quella lì. Nasco quindi come labirintista, ma come labirintista, anzi conosco la prima persona che conosco è proprio Luciano Somma nel 2007 a Minturno, l'ho incontrato l'anno dopo a Minturno per vedere la prima partecipazione ad un premio e siamo entrati, cioè lui già stava in Giulia, sono entrato a Giulia con lui e per tanti anni...